Quindi 3 al primo lasso, 2 al secondo, quali sono nei raccordi? Primo segnale che è subito valido, parte molto bene come si era visto una falsa partenza, parte Zappenimann che annulla in brevissimo tempo la penalità, si porta a ridosso di un besito che tra quelli davanti è stato quello che ha girato meglio, mentre Vittoriano Hans si è messo in seconda posizione, poi c'è Delio Torre e a chiudere Byron Staff. Di fronte è un besito che continua a condurre Zappenimann che ora vorrebbe tirare indietro per posizionarsi alla corda, ma c'è pronto l'inserimento di Delio Torre e allora rimane aria in faccia a Zappenimann, con intanto un besito che affronta la curva di sinistra da leader, con un parziale tutto sommato abbastanza tranquillo, sempre Vittoriano Hans in seconda con Zappenimann all'esterno, 1-2-4 per gli 800 con partenza da fermo, quindi si va tutto sommato piuttosto piano. Vedremo il parziale al chilometro, intanto ha raggiunto il battistrada Zappenimann, 1-17-3 per i mille metri di un besito che ora si porta all'esterno l'avversario, mentre rimane ben appostato alla corda il numero uno di Vittoriano Hans, ha serrato sotto anche Byron Staff che chiude il plotone, mentre aveva accennato a spostare la corda a Delio Torre, ma poi si rimette sotto, intanto 400, poi la metà della dritta opposta in 30 e mezzo, con un besito che ora cerca di accelerare il ritmo. Si scopre in terza così a Byron Staff, mentre Zappenimann ora naviga costantemente al lato di Vittoriano Hans e quindi c'è una terziglia dietro un besito all'apice della piegata conclusiva, con appunto Massimiliano Collatti al comando, sposta la corda Vittoriano, sembra aver speso il meglio Zappenimann, ci prova Byron Staff, ma un besito è ancora saldamente al comando, per le linee interne è filtrato Delio Corre, un besito se ne va largamente a conquistare il successo, mentre per il secondo a fil di palo, Byron Staff ha la meglio nei confronti di Vittoriano Hans. 44 e mezzo a chiudere, si è andato forte nella parte conclusiva della gara con un besito che ha badato al sodo con il proprio interprete, è venuto così a concludere da vincitore il figlio di Prodigius e McNapola, Christian fracassa il treno in colori della scuderia Boreale, che è quella di Massimiliano Collatti, che esulta in sediolo al proprio allievo. Il 2 al primo posto, 1,16 appena abbondante, la media al chilometro, il secondo posto per il numero 4 di Byron Staff, il terzo per l'uno, Vittoriano Hans, ed è tutto. Grazie. 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 Grazie.